Musica Per favore dammi qualcosa di bello Ragazzi sono pronto Apriamo solo casserare Non so quante siamo più o meno Vabbè comunque apriamo più o meno una decina No vabbè ne usceranno fuori una quindicina Sono pronto ragazzi Prontissimo Prima cassa Vai Vedo nel viola Sì Cosa che sta cosa Bellissimo questo casco ragazzi Subito Tre bonus chiavi ci sta Iniziamo benissimo Seconda cassa Vai Stai guardando sì Ah cazzo è arido Ah la noiz Oh vai 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 Bruco cioè alla fine sti cazzi Però comunque ci sta Abbiamo un corpo quindi abbiamo anche la cassa Vai Sta iniziando discretamente No non iniziare a darmi che sei Cosa è questa merda Oh oh Cos'è questa cosa Le tartaruga ninja di Raga Raga ma questi sono i I cose di power I power rangers No sapete che diventavano enormi alla fine della puntata E si menavano tra di loro contro il cattivo Quello ad essere un power rangers E quello a sinistra è un mostro Il mostro della puntata Così a caso Va bene E poi un martello pneumatico Che so che per le E' solo per le E' una cosa così stupida Va bene E poi va bene Quella mimetica figa Per i lanciami Si per i lanciami Si riviola Si 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 cazzo Si Tempesta E gemma vai Bellissima la tempesta ragazzi Per l'SWG poi cazzo godo Anche se poi vabbè ho già un'altra dimetica figa Poi l'alcione non l'avevo vista Mamma mia che faccone Che faccone La gemma ragazzi è leggendaria e bellissima questa dimetica Vai Cazzo si Oggi va bene ragazzi Oggi va proprio benissimo Dai dammi qualcosa di bello ti prego Cos'hai questa merda No iniziamo così eh Cos'hai questa cosa Oggi va bene ragazzi Oggi va proprio benissimo Vabbè dai sette chiavi mi ha restituito Dove lo facco ragazzi Sta andando bene oggi eh Non l'avevi vista che se ne metica Ah si invece Stiamo già iniziando a cagare fuori dal vaso Cosa c'è qua Basta con queste Si No ragazzi ma ce l'ho già Ma dai Non dammi le cose che ho già per favore Mamma mia bruciamo un attimo i duplicati Mi da 18 chiavi Ok bruciamo Bruciamo Ok vai Altre 18 chiavi Perfetto raga Dai Non darmi le cose che ho già per favore No questa cosa ce l'ho già Qua Madonna oh ma raga ma che cazzo E mi ha dato cose fighi all'inizio Adesso mi saranno lo schifo Dove ho visto nel giallo E basta con queste cose Oh Bellino questo Carino Non male Oh no raga Ci sta Va bene Va bene dai 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 Ci mancano ancora tante cazze Possiamo sperare qualcosa di meglio Madonna oh Ma perché questi accessori Non li ho mai usati in vita mia Non datemi cose che non uso Vi prego Oddio Ce l'ho già questo Porco giuda Mi dà le cose che ho già mi sa Corpo oceanico Aspettate un po' Si ragazzi ce l'ho già Porco di quel giuda Ce l'ho già Corpo oceanico Lo vedevo due No raga No Quella è una cosa rarissima Perché devo traire le due cose Vabbè duplichiamo Cancelliamo Si pronunciamo i duplicati Ragazzi Abbiamo tre casse Tre casse Devono andare bene per forza Dammi qualcosa di bello Inferno No Questa non è roba bella Cazzo Ma che merda è Sette Vabbè No ragazza No raga Ne rimangono poche Dai Qualcosa di bello No Eh vabbè raga Ma che cosa mi sta dando Ma Cose che ho già Fanno schifo Ultima cassa Mi sa che è questa Perché queste merda Ma che cazzo Me ne faccio Raga Cosa sono Questi orsetti Che sparano Ma perché E poi tutti questi gesti Io non lo capisco Bruciamo gli ultimi duplicati Ci rimangono due casse banali Credo Due casse banali Molto semplicemente Ragazzi Porco giurta Noi Cosa Che cazzo è questa cosa qua ragazzi Sumo A me Io non vi dico Cosa mi fa pensare Quest'immagine qua Non ve lo dico ragazzi Cosa è Io non me la metterò mai Ma mai Proprio nella vita Vabbè Cambiamo Ultima ragazzi Ultima cassa Dammi qualcosa di bello Non i tentati Allucinazione Giusto per concludere Ad il meglio Questo bellissimo pack over Allucinazione Possiamo bruciare qualcosa Sì ma non ci daranno Ragazzi Pack over infinito Così riguardiamo Un attimino Cosa abbiamo trovato Tra l'accento Che ci può stare Questa è rara E poi la gemma Non mi ricordo Per il krm Dov'è chi è il krm Eccolo va Per questo abbiamo trovato La gemma E ci sta dai Ci sta Sono queste due ragazzi Sostanzialmente Come al solito Ho bruciato Cazzo i chiavi Inutilmente Meno male Che non ho comprato nulla Oggi Meno male ragazzi Comunque ragazzi Questo pack over Mi giunge al termine Spero che vi sia piaciuto È un po' meglio D'altra volta Però un po' peggio D'altra volta Insomma Una via di mezzo Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel like E noi ci vediamo Nel prossimo video Un bel like Spero che vi sia piaciuto I'm making dreams Spero che vi sia piaciuto Spero che vi sia piaciuto Spero che vi sia piaciuto